Ciao ragazzi, in questo, alleluia, nuovo video di Rainbow Six Come vedete è uscito il nuovo DLC Che si intitola Velvet Shell Sono cambiato un po' di cose C'è la home, finalmente, di Rainbow che aspettavo da tanto Perché prima dovevi schiacciare 200 tasti per una cosa Invece adesso ce l'hai tutte qua belle inquadrate Andiamo subito nella schermata operatori E si può vedere Jekyll e Mira Molto forti Io però ci ho messo solo il nuovo ciondolo Non so se lo vedete Ve lo allargo anche Per prima arma c'è il C7E Che è un'arma semi-automatica E' automatica Come si dice E a me sembra quasi L'arma di Jäger Questo è il PDV-9 Questa qua, mamma mia, non c'entrerà niente Ma io l'ho usata tantissimo su GTA E diciamo che assomiglia a quella di GTA E poi per seconda arma Quello che mi ha stupito E' che c'ha uno shotgun Diciamo, un pompa Ho fatto un fail, scusate, è questo L'ITA-12S Il pompa, questo è arma primaria Mi sono sbagliato Ci abbiamo la carica d'erruzione E la granata stordente Ed eccoci qua con Mira La nuova operatrice in difesa Per prima arma c'è un Vector Fortissimo, 26 colpi Però c'ha una raffica proprio velocissima Quindi le finiamo in poco tempo Poi ci abbiamo sempre l'ITA-12L Quindi molto molto forte E poi ci abbiamo l'ITA-12S Invece sempre per l'arma secondaria O la pistoletta Ci abbiamo lo scudo e la nitrosel Quindi andiamo subito a fare una partita Sperando che nessuno mi rubi gli operatori Ed eccoci qua Nella prima partita Purtroppo non ho trovato la mappa nuova Ma ho trovato Barlet Speriamo che nessuno mi uccida male Perché guardate Sono abituato Tato che in questa stagione Ho notato molti che hanno preso il nuovo Il season pass IH2 Vabbè Quindi Ho dovuto impiegare un'ora circa Per registrare questo video Perché Uno mi uccidevano Due Mi rubavano Come si dice Mi rubavano gli operatori Quindi Non ho potuto Mettiamolo qua Sì si può Si può Come no Ah spazio insufficiente Sì però Sì vabbè ma qua no Guardate E qua adesso non si può sparare Però se noi Rompiamo questa cosa Dopo ve lo faccio vedere Ve lo faccio vedere Il vetro si rompe E noi possiamo sparare Ok 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 Uno è su Ok Mira Secondo me Per un mio consiglio Non è decisamente Di andare in giro Per andare in giro Ma noi vabbè Attenzione che potremmo venire Anche da lì Allora qua praticamente Dato che Bisogna spaccare qua Guardate Boom Adesso si può sparare Attraverso Quindi è molto molto figo Guardate un po' Guardate un po' Ed eccoci qua Secondo round Questo è Jackal Con il ppdv Ve lo mostro subito Quanti colpi c'ha 51 come il p90 Molto utile diciamo Uh figata Ok Prede venite Ok Qua Non c'è Attualmente Nessuno Ne piazziamo Vabbè 5 e 2 Uuuu Dai Troppo facile Queste armi Eccoci qua Nel terzo round Ho voluto Provare il pompa Proviamo Eh Quasi come Il super 9 Di eco Quasi come Super 9 Non so come Chiamarlo Bello Ok E ne mettiamo Non so se si possono Mettere dalle botole Devo ancora provare Devo ancora provare a mettere dalle botole Intanto vedete che E' lentissima L'operatrice Andiamo a provare Da una botola Se si può No No Non si può Proviamo a mettere questo Eh no Se no era bello Ok Mi sa che non hanno Jackal Devo ancora imparare Nomi un po' Mamma mia Speriamo Se no Vede le mie tracce Mi individua Velocemente Poi Ne mettiamo una qua Qua Ecco Poi Chi è Thermite Mentre io Cazzeggio Vi faccio vedere Vi racconto Mi uccidono Dai 3 contro 4 Facciamo ancora un round Così Utilizzo Jackal Con l'abilità No Bella Non guardano dal vetro Se ne ho messo lì Una posta Dietro di te Ok Non capisco Bravi 3 2 Ok Perché Avete visto quello Ha fatto quella cosa Delle Ricognizione Che si può fare Solo sul piccino Di inclinare La cosa Dai ancora un round Morite Mi prego Sì È lì È lì Bella Vittoria alla difesa Vabbè ragazzi Per questo video È tutto Non lo faccio diventare Troppo lungo Se no Poi Troppo lungo Ce ne saranno Molti altri Di video In questi tempi Mi sto concentrando Più su Rainbow Perché Per chi non lo sapesse Ho fatto un nuovo account PSN Per il mio clan Su Rainbow Allora Mi voglio dedicare Più a quello Quindi ragazzi Per questo video È tutto E noi ci vediamo Alla prossima Bella Alla prossima Alla prossima